Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sportiva di Molise TV. Apriamo parlando di calcio di Serie D. Il Termoli nel recupero di ieri pomeriggio ha superato agevolmente la Miternina per 4 a 0. In gol per i giallorossi che hanno sbagliato un rigore al secondo minuto con Bartolini sono andati D'Angelo, Cianni, Bartolini e Mandorino. In classifica il Termoli ora è terzo con 31 punti in 16 incontri a una lunghezza dalla Maceratese, a 3 dalla San Benedettese e a 5 dalla capolista San Cesario. Sabato pomeriggio al Cannarza arriverà il fanalino di coda San Nicolò che ha svincolato tutti i giocatori proseguendo la stagione con la formazione Juniores. E possiamo vedere adesso il servizio della partita tra il Termoli e la Miternina curato da Giovanni Cannarza. Poker del Termoli nel recupero della quindicesima giornata di campionato nazionale di lettanti. I giallorossi al Cannarza si impongono per 4 a 0 sulla Miternina e cancellano subito la deludente sconfitta di domenica scorsa contro la Renato Curi angolana. Il Termoli torna così scie a 5 punti dalla vetta anche se sul campo almeno nei primi 45 minuti i molisani dovranno faticare non poco. Giacomo Arroschiera dal primo minuto l'ex Isernia Fusaro e l'ex Civitanovese Mandorino. Nella Miternina invece spazio a Varchetta arrivato dall'Isernia e dopo aver già disputato anche tre stragioni a Trivento. Primo tempo contraddistinto dal forte vento nella ripresa invece fulmini e pioggia a Catinelle. Pochi giri di lancetta ed il Termoli potrebbe già passare in vantaggio. Al secondo minuto c'è infatti un tiro di D'Angelo deviato nell'area della Miternina da Di Francia che tocca di mano. Per il signor Cataldo di Bergamo non ci sono dubbi e calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Bartolini ma il tiro del capitano del Termoli viene deviato da Spacca che svente il pericolo. Al settimo ci provano invece gli ospiti ma il tiro di Gizzi è neutralizzato da Inbimbo. Al venticinquesimo ancora Miternina con una punizione di Bocchino rispinta con fatica da Inbimbo. Al trentatresimo invece il termolese Mandorino a liberarsi in aria e a provare la conclusione ma Spacca si distende para. Un minuto dopo arriva però il vantaggio del Termoli. Di Mercurio entra in aria e calcia convinto, Spacca devia ma non trattiene e D'Angelo da due passi riesce a mettere in porta la palla dell'1-0. Le ultime azioni del primo tempo da segnalare sono la prima per la Miternina che per poco non pareggia. Tiro cross di Gizzi che attraversa la porta ma impatta sulla traversa. La replica del Termoli invece con questo pericolosissimo diagonale di Viteritti che fa la barba al palo. Nella ripresa sotto il diluvio c'è un Termoli più tonico che si rende pericoloso. Già al quarantanovesimo cross in aria di Mandorino ma nessuno dei giallorossi trova il tocco vincente. Dal successivo corner D'Angelo prova la girata ma la difesa riesce a salvarsi. Tre minuti più tardi arriva però il raddoppio del Termoli. corner Dicianni e palla Mandorino che trova la parabola vincente per il gol del 2-0. In questi secondi 45 minuti è quasi un monologo del Termoli. Al 55esimo Viteritti crossa al centro e Bartolini prova il tec in scivolata ma spacca para ma nella circostanza rimane a terra provocando le polemiche dei suoi per l'intervento del capitano del Termoli. Il gol del 3-0 porta la firma di Bartolini ed arriva al 60esimo. Buon lancio in aria di D'Angelo e tocco vincente della riete giallorosso che con questo gol sale a 13. Gol in classifica. Solo 10 minuti ed il Termoli chiude definitivamente il match con questo gran gol di Cianni che arriva al settantesimo. Al Cannassa finisce dunque 4-0. Il Termoli aspetta adesso sabato in casa all'ultima della classe San Nicolò per cercare di concludere in bellezza il girone di andata. E' piena soddisfazione dell'allenatore del Termoli Mimmo Giacomarro intervistato subito dopo la partita da Giovanni Cannassa. Ascoltiamo. Il mister Giacomarro serviva una prova convincente. E' arrivato questo 4-0 con la mitternina. Risultato mai messo in discussione. Un Termoli che riesce subito a rimettersi in carreggiata. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita pur essendo con un tempo un po' particolare fra vento e acqua e grande non era facile anche col campo pesante però i ragazzi penso che si sono comportati veramente in modo egregio hanno fatto delle giocate di grande qualità abbiamo fatto gol perciò la cosa importante era questa non l'abbiamo preso e siamo tutti contenti. Dall'inizio Fusaro e Mandorino quindi anche nuove soluzioni tecniche che si vanno innestando già nel collettivo precedente. Sono due giocatori importanti, giocatori che ci servivano come esperienza come voglia, come determinazione. Mandorino lo conosciamo tutti, è un giocatore a prescindere dalla qualità e caratteristamente è uno tosto perciò una squadra giovane come quella nostra con qualche elemento che magari non aveva mai vinto i campionati o camminati di alta classifica è giusto che sia arrivato qua, si è integrato benissimo sia come Spagna che Fusaro perciò sono contento e dobbiamo cercare sempre di lavorare per migliorarci sempre di più. Sabato prossimo arriva l'ultima in classifica che partita prevede il Termoli che con oggi è riuscito a tornare a 5 punti dalla vetta? Una partita se non le affronti come ha affrontato l'Iserno, la San Benettese e anche l'atteggiamento di oggi fai sempre fatica perciò se noi siamo concentrati e determinati oltre alla qualità che abbiamo sia in mezzo al campo sia davanti possiamo sicuramente tolgerci delle buone soddisfazioni. Termoli che era stato definito ammazza grande adesso serve continuità anche con le piccole? Continuità, continuità dopo 9 risultati utili consecutivi, 7 vittorie con questa in 10 partite in 11 partite abbiamo fatto 8 vittorie due pareggi e una sconfitta penso che la continuità c'è il problema è avere sempre quella cattiveria agonistica giusta per cercare di affrontare le partite tutto allo stesso modo però noi cerchiamo dopo di dare i giudizi positivi a tutti per cercare sempre di farli migliorare. E ancora calcio di Serie D l'Olimpia agnonese è concentrata sulla gara di macerata in casa della vicecapolista marchigiani che sul proprio campo sono reduci da tre vittorie consecutive vediamo l'Olimpia agnonese saluterà il 2012 con una gara di tutto rispetto sabato e Granata viaggeranno alla volta delle marche per affrontare la vicecapolista maceratese la squadra allenata da Corrado Urbano nonostante sia digiuna dal successo da sette giornate ha il morale alto vista anche l'ultima entusiasmante prestazione che l'ha vista davanti al proprio pubblico bloccare l'Ancona sul risultato di 2 a 2 la formazione antimacerata dovrebbe ricalcare proprio quella di domenica scorsa con il ritorno del bomber maliano Bubu Keita che sta svolgendo ancora un allenamento differenziato rispetto a quello dei suoi compagni ma anche se non al 100% sabato scenderà in campo dal primo minuto il resto della squadra è perfettamente in salute Urbano in settimana ha mostrato particolari apprezzamenti per i due nuovi arrivati tra le file Granata che hanno rimpiazzato i partenti Leonetti e Scampamorte Lander Biasella, classe 1993 cresciuto nella scuola calcio San Leucio Acquaviva e alla sua terza stagione in Serie D e Stefano Di Berardino, elemento fuori categoria che subito si è integrato con il suo nuovo team la dirigenza Granata è convinta di andare nelle Marche per giocarsela a tutti gli effetti anche perché chiudere l'anno con un successo regala una certa tranquillità Eliserni ha perso anche Vinci Guerra che si sta allenando con il Boiano prepara la trasferta di Roma per affrontare il fidene intanto Farina tornerebbe qualora Patron Monfreda riesca a inserire in organico 5 o 6 elementi di esperienza vediamo quel che resta dell'Isernia sembrerebbe il titolo di un film e invece è davvero il caso di dirlo il mondo calcistico bianco celeste a poco a poco si è sgretolato dietro sogni e illusioni di persone che avevano creduto nel progetto a inizio campionato illusione però spezzatesi dietro il buio di fievoli speranze di una rimonta societaria si intende a dare l'addio al team per entro ore anche Vinci Guerra mentre Scagliarini si aggrappa ai ragazzi che tenacemente hanno deciso di restare qualche luce all'orizzonte però si profila poiché sembrerebbe che Farina sarebbe disposto a tornare nel caso in cui riesca a inserire nell'organico 5 o 6 elementi di esperienza che dire speriamo che questo avvenga al più presto altrimenti il campionato sarà tutto in salita come adesso insomma ieri l'amichevole con il Venafro vinto per 2 a 1 anticipata per via della partita di sabato contro il Fidene una partita che potrebbe rappresentare un riscatto e anche importante per l'Isernia l'unico giocatore finora rimasto fedele ai colori bianco celesti sembra essere il capitano Panico a cui la Turris sembrerebbe puntare i fari in effetti come contraddirli a fronte di un così importante giocatore che potrebbe fare la differenza nella rosa di Santa Croce di Magliano altrettanto interesse verso Panico lo avrebbe anche il Boiano che vorrebbe rafforzare il reparto offensivo ma per ora pare che il capitano proprio non voglia lasciare Isernia ma vedremo fino a quando unica cosa certa ci tiene a restare in Serie D nel frattempo Monfreda sta meditando sul da farsi ma ora che Ugo De Vivo non è più sindaco di Isernia sembrano avvicinarsi altri problemi poiché a quanto pare era l'unico amministratore che si era davvero interessato alla questione calcio in città che il Natale porti a diventare tutti più buoni lo speriamo tanto da far avvicinare qualche imprenditore alla società per poter riportare qualche scampolo di belle speranze in vista dell'anno nuovo e parliamo adesso di calcio di Lega Pro il Campobasso punta al terzo successo consecutivo sabato al Selvapiana arriverà il Melfi ieri i lupi hanno provato l'undici titolare nel test contro la Beretti vediamo il Campobasso è alla ricerca del terzo successo consecutivo per trascorrere le feste in serenità fuori dalla zona retrocessione sabato per l'ultima gara prima del rompete le righe natalizio arriverà allo stadio di Contrada Selvapiana e il Melfi per il terzo dei cinque scontri diretti consecutivi previsti dal calendario dei Rosso Blu l'anticipo delle gare che chiudono il girone d'andata di Lega Pro ha causato uno spostamento delle regolari attività settimanali del team di Mister Bullo che ieri pomeriggio ha svolto l'amichevole generalmente prevista il giovedì contro la Beretti la formazione anti-Melfi in via di definizione a condizionare le scelte del trainer sono gli infortuni che attanaiano i suoi uomini il rientro di Lacheb è quantomeno improbabile le condizioni di Di Libero e di Candrina sono ancora da verificare e l'occasione ci sarà durante le rifiniture di stamane e di domani mattina molto probabilmente Bullo in avanti darà una chance a Gianluca Di Bartolomeo al fianco di Busti lasciando Morante in panchina per la quarta gara consecutiva dietro di loro agirà Giorgio Di Vicino spalleggiato da Reis, Curcio ed Esposito in difesa non dovrebbero esserci grandi cambiamenti Giuliano difendere ai pali Minadeo e Marino in mezzo Pascucci sulla mancina e qualora Candrina non dovesse farcela potrebbe partire titolare l'ander Petrassi il Melfi è reduce da due sconfitte consecutive dopo una serie di sette risultati utili i 90 minuti del Selvapiana si prospettano essere decisamente agguerriti intanto la società Rosso-Blu per tentare un riavvicinamento della città alla squadra considerata anche l'immediata vicinanza delle feste per l'incontro Campobalso-Melfi ha previsto come tagliando di ingresso in Curva Nord il prezzo di 7 euro e il costo del biglietto di 10 euro in tribuna laterale per genitori con figli Patron Capone annuncia così la sua scelta abbiamo intrapreso questa iniziativa per riportare il calore del pubblico Rosso-Blu allo stadio per dare una spinta maggiore alla propria squadra che oggi come non mai ha bisogno del dodicesimo uomo in campo e parliamo adesso di calcio regionale Turris-Santa Croce-Fornelli e questa la finalissima della Coppa Italia 2012-2013 la stessa della stagione 1992-1993 i santacrocesi nella semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dei primi 120 minuti ha superato in trasferta il sesto campano ai calci di rigore per 5-4 decisivo l'errore del sestolese napoletano che si è fatto parare il penalty dal portiere Delfino il Fornelli invece ha superato con il minimo scarto il Montenero dopo lo 0-0 dell'andata nella semifinale di ritorno è stato un gol di Apollonio a regalare l'accesso alla finalissima e intanto continuiamo a parlare di eccellenza il nuovo direttore sportivo del Boiano dovrebbe essere Alfredo Padovano che Molise ha già lavorato con il nuovo Campobasso e il Campobasso 1919 i matesini devono rifondare la squadra che ha permesso di chiudere il girone di andata in prima posizione il 2012 De Biancorossi si è chiuso con un successo di misura sulla Virtus Pozzilli ascoltiamo i calciatori matesini Antonello Corradino e Gerardo Pignataro Complimenti Boiano Campione d'inverno com'è andata la partita? al primo tempo abbiamo un po' sofferto anche perché giocare su questo campo per noi è quasi impossibile contro le squadre che si difendono non è mai facile però è andata bene ci godiamo questi tre punti in attesa di risolvere i nostri problemi che ne sono tantissimi ci puoi dire quali sono questi problemi che vi hanno un po' arretrato anche nella corsa in campionato? i problemi sono tantissimi è inutile elencarli qua adesso qua per il momento non è calcio stiamo giocando complimenti ai miei compagni di squadra il mister insomma che stiamo dando il massimo però ripeto speriamo di risolvere questi problemi perché credo che così non si possa andare avanti sicuramente uno dei migliori in campo complimenti Boiano Campione d'inverno sì ti ringrazio per i complimenti sinché c'è da dire poco abbiamo vinto fortunatamente questa partita anche faticando su un campo pesante non era facile giocare contro un avversario che comunque si era arroccato in difesa però l'importante è che abbiamo trovato questo gol che ci ha permesso di portare a casa il risultato Boiano bravo, capolista che però insomma poteva stravincere con Virtus Pozzilli è un po' provocatoria la mia domanda poteva stravincere però ripeto non è mai facile giocare contro queste squadre purtroppo vengono a Boiano sapendo che giocano contro la capolista e cercano quanto meno di strappare qualche punto quindi è sempre difficile cercare gli spazi e la via della rete ci siamo riusciti per l'ennesima volta anche questa volta e ci hanno annullato un gol poi siamo stati bravi a rifarlo abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore però va bene così andiamo avanti per la nostra strada e nel recupero di promozione il Rocca Sicura ha superato con il più classico dei punteggi il nuovo Montaquila in gol per Rialto Molisani Antenucci e Di Tullio il Rocca Sicura sale a 20 punti in classifica uno in meno del Montaquila e cambiamo argomento veniamo al Calcio A5 la finalissima della Coppa Italia di Calcio A5 vedrà di fronte il Venafro e la Tecno Electric Isernia i Venafrani nella semifinale di ritorno hanno battuto la Chaminade Campo Basso per 5 a 3 la Tecno Electric Isernia ha superato nel derby del Capologo Pentro l'Isernia Calcio A5 per 7 a 3 e concludiamo con il nostro spazio dedicato al calcio giovanile i giovanissimi del difesa Grande Termoli hanno chiuso il 2012 con una sconfitta di misura a Campo Basso in casa delle Acli ascoltiamo ai nostri microfoni l'allenatore giallorosso qui all'antistadio Selvapiana ci troviamo con il mister dei giovanili del difesa Grande Termoli una sconfitta contro le Acli possiamo dire che comunque la squadra nell'approccio aveva avuto un ottimo ingresso in campo poi dopo 10 minuti però è venuta fuori la supremazia anche dei padroni di casa diciamo eravamo un po' rimaneggiati per via di alcune assenze tra un po' influenza e altri impegni vari non ho riconosciuto i miei ragazzi perché sono stati veramente diciamo 11 fantasmi però diciamo che andiamo a riposo con le feste con un ottimismo per il campionato di ritorno che comunque è un campionato a parte con l'unica speranza di far crescere questi ragazzi che è la cosa principale niente solo questo siamo un po' amareggiati perché comunque brucia sconfitta brucia e niente complimenti alle Acli che sono stati superiori e auguri a tutti a fine partita anche le strigliate del tecnico del dirigente anche accompagnatore forse qualche cosa poteva essere fatto di più ma queste sono anche urla che servono ai ragazzi anche per sbloccarsi anche un po' psicologicamente sì quello sì che comunque bisogna fargli capire che il calcio è un impegno costante anche nella sconfitta bisogna cacciare il carattere non bisogna mai mollare soltanto che purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro anche se ci siamo mangiati qualche gol verso la fine però come ripeto sono stati superiori e diamo merito alle Acli facciamo una scheda tecnica sui suoi due giocatori parliamo del portiere Vincenzo Piermatteo e del difensore Marco Antinucci andato anche in gol in occasione del calcio di rigore come li ha visti in campo e come stanno crescendo nella sua squadra? loro sono già presenti sulla lista della rappresentativa molisana dei giovanissimi sono diciamo i nostri fiori all'occhiello come il portiere Vincenzo che è stato curato da Meda circa un anno e mezzo e comunque stiamo raccogliendo degli ottimi risultati e Anderucci è un nuovo arrivo che è arrivato acqua viva è veramente un ragazzo interessante da tenere d'occhio ci vuole parlare della sua squadra della sua società soprattutto della difesa grande Termoli che società è da quante squadre è composta e quante squadre compongono appunto questo settore giovanile e rappresentano i vari tornei? allora la difesa grande quest'anno ha avuto una sorta di restyling grazie all'aiuto di Dario Bellomo noto anche qui in zona e parte dai primi calci a Pulcini giovanissimi esordienti allievi tutto quello che ne viene e niente il discorso è che stiamo puntando molto su tutta la parte degli esordienti che l'anno prossimo verranno fuori nella nostra categoria abbiamo anche gli allievi che stanno dimostrando di avere un grande valore sono terzi in campionato ieri vengono da una vittoria proviamo a fare calcio proviamo a crescere vediamo cosa riusciamo a fare ecco c'è qualche rapporto di collaborazione della vostra società proprio a livello del settore giovanile con società professionistiche italiane? al momento che io sappia no perché come ti dicevo c'è stato questo restyling quest'anno comunque in programma dovrei chiedere al presidente perché al momento mi sfugge comunque stiamo lavorando solo sul nostro e questa è quando ti posso dire al momento questa un'ultima battuta gli auguri per le festività natalizie per la testata di Molise TV del mister Delife Sagà io faccio tanti auguri a tutti voi e speriamo di vivere un Natale più sereno che ne abbiamo tutti quanti bisogno ok grazie mille e buon Natale arrivederci era questo il nostro ultimo servizio grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Molise TV grazie a tutti